su culibali e su milenkovic approfondimenti nel video di quest'oggi giovedì 7 luglio bentrovati cari amiche e amici bianconeri nuovamente qui sul mio canale grazie sempre per seguirlo per le interazioni i messaggi e soprattutto grazie anche alla grande partecipazione la live di ieri sera nel corso della quale insieme a elvin defazio insieme a mirco di natale e a enrico turchato per la prima volta qui sul mio canale abbiamo toccato tutti i temi che in questo momento ruotano intorno all'orbita bianconera oggi andiamo in approfondimento ma prima di sviluppare il video come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale youtube se non lo siete azionate la campagna notifiche così da poter essere informati su tutti i futuri contenuti che saranno pubblicati su questo canale in fondo la puntata se questa sarà stata il vostro scrivimento mi raccomando mettete like al video su culibali e su milenkovic intanto qual è il denominatore comune il denominatore comune è l'incontro ottenutici ieri sera a milano tra federico cherubini e il la gente di entrambi falli ramadani che è anche la gente di federico chiesa e quindi diciamo è servito alle parti per aggiornarsi su alcune situazioni bene sappiamo che in questo momento la juventus è concentrata in primis su una situazione quella della cessione di mattais del ite cessione di mattais del ite che sarà eventualmente resa diciamo un pochino più ufficiale diciamo così il corso dell'incontro che si dovrebbe tenere con l'avvocatessa pimenta perché in serata dovrebbe arrivare a torino angel di maria nella giornata di domani dovrebbe arrivare invece paul pogba e allora in diciamo accompagnamento a paul pogba e in approfondimento ai discorsi sul francese operazioni definite sia chiaro arrivano per sostenere le visite mediche può essere che la juventus vorrà chiarezza definitiva su quelle che sono le intenzioni di mattais del ite che comunque sembra orientato a vivere un'esperienza differente sappiamo dell'inserimento del bayern sappiamo che questo inserimento del bayern invece di scatenare un'asta come la juventus si sarebbe auspicato potrebbe aver diciamo determinato un qualcosa se vogliamo controproducente da un punto di vista del introito economico ma si vocifera che il bayern abbia una contropartita che possa essere ritenuta interessante per la juventus perché dico questo perché sembra che il giocatore sia propenso ed orientato ad accettare ad accettare la proposta del bayern piuttosto che quella del celsi ma vedremo ne sapremo di più nei prossimi giorni questo però è il punto carne del mercato bianconero in questo momento bisogna trovare la soluzione alla posizione di mattais del ite dopo di che la juve è concentrata chiaramente a proseguire il proprio mercato da zagnolo al sostituto di mattais del ite e allora su culibali e su milenkovic perché perché su culibali è indubbio che questo sia il primo nome sulla lista di massimiliano allegri giocatore individuato quale erede ideale di una figura importante come quella di mattais del ite giocatore se vogliamo ancora con maggiore esperienza giocatore qualitativamente indiscutibile fisicamente affidabile giocatore che ha tutti i per poter raccogliere diciamo l'eredità di una partenza molto importante nel cuore della difesa bianconera c'è ovviamente una piccola problematica che piccola così così piccola non è qual è che la juventus ha offerto al giocatore attraverso ovviamente il proprio agente falli ramadani un contratto plurienale da circa 6 milioni di euro netti a stagione questo chiaramente non è un problema l'essere accettato tanto che la juventus confida molto nella diplomazia di falli ramadani per eventualmente convincere il proprio assistito ad accettare la proposta bianconera tanto che il giocatore mi viene riferito non è così restio ad accettare e ad accettare bianconeri quantomeno è disposto a valutare un po' tutte le situazioni è chiaro che da un punto di vista professionale forse la sua propensione sarebbe quella di vivere un'esperienza alternativa alla juventus ma questo non significa che qualora fosse nelle condizioni di questi non accetti la proposta bianconera c'è però una situazione che bisogna tenere ben presente perché chiaramente dalle parti napoli proprio quelle dalle quali io vi parlo filtra pesantemente la preoccupazione che culibali possa lasciare il napoli al tempo stesso la certezza che il presidente aurelio de laurentis metterà il giocatore nella condizione di assumersi in totale propria responsabilità rimbalza in questi giorni anche la notizia che aurelio de laurentis che ha sostanzialmente messo con un primo con diciamo con le sue prime parole il giocatore nella condizione di accettare il napoli anche a fronte di una proposta al ribasso metta proprio il giocatore nelle condizioni di assumersi in totale responsabilità della scelta cioè de laurentis non vuole passare come colui che ha ceduto culibali alla juventus ma vuole che culibali sia sostanzialmente consenziente in tutta questa operazione e quindi che si assuma la propria scelta la propria responsabilità di aver accettato i bianconeri sappiamo che nel mondo professionistico questi sono argomentazioni che se vogliamo lasciano un po il tempo che trovano perché nel momento in cui uno decide di fare il professionista in una sport di squadra sa perfettamente che potrebbe essere messo nelle condizioni di dover lasciare un club per abbracciarne un altro e per quanto il campanilismo sia comunque un qualcosa presente all'interno della tifoseria per chi fa il professionista beh questo dovrebbe essere relativo ma sono opinioni sono sensazioni la sensazione è che la juve voglia fortemente culibali che la juve non andrà oltre una proposta da circa 30 milioni che è ancora distante da quello che il presidente dell'orentis ha posto come limite per l'accessione di culibali che diversamente potrebbe andare in scadenza tra 12 mesi e allora quando si libererà dal contratto e sarà libero di decidere in assoluta autonomia la propria nuova destinazione dell'orentis allo stato attuale continua a chiedere 40 milioni su milenkovich che cosa c'è da dire c'è da dire che è un giocatore che è stato accostato in passato più volte alla juventus un giocatore che è abbastanza polivalente perché può ricoprire il ruolo di centrale ma può ricoprire anche il ruolo di esterno basso di destra ma è un giocatore che non può essere considerato come l'erede di Matthijs de Ligt con tutto il rispetto se vuoi fare uno step di crescita se cerchi un giocatore che ti dia una certa personalità qualità personalità e accrescimento della esperienza nel reparto arretrato beh non credo che il profilo da andare ad individuare sia quello di milenkovich che invece sarebbe andare ad individuare in accompagnamento ad un altro profilo un po più importante perché milenkovich è un giocatore sicuramente valido ma non può essere il profilo da tenere in considerazione come sostituto di Matthijs de Ligt e quindi su milenkovich io sono un po un po tenue un po freddo se vogliamo nelle considerazioni bianconere perché è un nome che potrebbe essere in orbita bianconera come secondo eventualmente come secondo centrale qualora la juventus ne facesse un altro e allora l'accoppiata kulibali milenkovich essendo assistiti di falim ramadani sarebbe possibile chi lo sa tutto può essere certo è che in quel caso dovrebbe uscire un secondo un secondo difensore e ovviamente nonostante già l'addio di giorgio chiellini credo che kulibali gatti bonucci milenkovich rugani potrebbero essere troppi e allora sono portato a pensare che i centrali possano essere quattro perché si possa fare un'operazione di questo tipo dovrebbe uscire daniele rugani per il quale c'è l'interesse del bologna seguiamo anche questa pista la ritengo difficile ma seguiamola per quanto riguarda il discorso di milenkovich in toto ecco su di lui c'è anche l'inter la quale inter è concentrata alla nella cessione di screener che libererebbe la possibilità di poter porre le mani in via definitiva su bremer ma fin tanto che fin tanto che screener non uscirà fin tanto che bremer non sarà certamente un giocatore dell'inter continuiamo a tenere monitorata la pista perché kulibali è il preferito di massimo allegri ma bremer sotto traccia a me continua a risultare che la juventus continui a sondare il terreno se ci sentiamo presto mettete like al video iscrivetevi al canale youtube come sempre fino alla fine forza juve ciao